Salve a tutti Blazers e benvenuti in questa nuova puntata della serie di sopravvivenza Ci troviamo dentro lo scafo della nostra nave infernale In cui sono tornato per solamente l'introduzione alla puntata Dato che vi volevo parlare, fare un attimo il punto sui vostri commenti Mi avete suggerito tantissime cose, tra le varie cose è uscito un dubbio Vale a dire, perché hanno usato anche le verruche del Nether nella costruzione? Il motivo in realtà è abbastanza semplice Ho usato così tanti blocchi che ho faticato ad inserirli alla fine dei conti Per esempio il magma blocchi l'ho inserito nello scafo come dettaglio che si vede da fuori Tra l'altro qui mi avete detto che ci sta perché sembrano dei cannoni Quindi tutto sommato potrebbe avere un senso la disposizione di blocchi qui Ma per il resto appunto ho dovuto incastrarli come potevo per farceli stare tutti Mettere anche le verruche del Nether sarebbe stato un po' troppo secondo me Però tranquilli perché adesso che abbiamo tutti questi nuovi blocchi del Nether Potremmo sicuramente tornare in futuro, fare il Nether Hub Finalmente in modo da avere un ingresso bello e non questa struttura fattiscente che abbiamo E magari potremmo utilizzare questi nuovi blocchi per costruire qualcosa di interessante Intanto le altre idee che mi avete suggerito sono quelle di fare un Iron Golem Che voglio mettere qua nello scafo In realtà non sarà un vero Iron Golem Perché non lo vorrei mai condannare qui a morire per sempre Cioè stare per sempre da solo nell'inferno Quindi faremo un piccolo totem che ricorda un Iron Golem E di fianco li mettiamo, anzi davanti, li mettiamo un pot con un papavero Le hex rose appunto per simboleggiare gli Iron Golem morti nella farna di ferro Che ci donano le loro roselline alla morte Quindi è l'anima di un Iron Golem diciamo questa Mentre qua in cima metteremo effettivamente una sorta di caronte Qui al timone lo voglio mettere Quindi facciamo sbam, armor stand Armatura nera che fa molto demone E zucca in testa per fare finta che sia una sorta di mostro Lui sarà tipo caronte che sta guidando, sta traghettando questa nave infernale Per l'hostige a questo punto direi E poi in giro per la nave un po' a muzzo Ci mettiamo alcuni armor stand Anche un po' storti che si guardano in giro diciamo E li mettiamo sopra queste armor bianche Che simboleggiano un po' dagli spiriti O se vogliamo le anime condannate nell'inferi Sono bellissime idee Sono tutte idee suggerite da voi nei commenti Diciamo quelle un po' più quotate Le ho volute implementare al volo Adesso torniamo a Riva Ci sta qualche dettaglio in più Poi per il resto diciamo che la nave vi è piaciuta così com'è E ci rimane da fare un'ultima cosa Vale a dire lanciare queste bottiglie d'acqua splash Per inaugurare la nave Quindi è come lanciare lo champagne sullo scafolo L'abbiamo fatto con l'altra nave Proviamo a farlo da qui Con queste tira Ah non ci arriva Questa cosa sapete cosa vuol dire? Vuol dire shagura Vuol dire che questa nave sarà maledetta E in effetti va bene così Perché è una nave infernale Quindi mi piace che sia maledetta Quindi le pozioni splash che mi rimangono Boh li tiriamo ai pigmen giusto per dar fastidio Non penso che si incazzino Proviamo così per curiosità No non le sentono neanche probabilmente Vabbè comunque torniamo a casa ragazzi Perché è arrivato il momento di dedicarci ad altri progetti Quindi direi che possiamo tornare E ragazzi sono passato da casa Per recuperare l'argilla che avevo preparato L'argilla colorata Che utilizzeremo in questo episodio Perché andremo a fare una cosa Che vi avevo promesso che avrei fatto dopo la nave Vale a dire torneremo nel land Solo per questa puntata Perché faremo Ci castreremo nei muri Usare le porte Era troppo mainstream No lo sapete Comunque devo andare nel land Perché avevate scritto nei commenti Un'idea molto bella Vale a dire quella di fare Il pianeta terra Nel land Appunto perché il land Sembra la luna Almeno l'isola centrale del land Ed se da qui si vede La luna Da lì si vedrà la terra Ha senso Quindi l'idea era piaciuta a tanti di voi Quindi andiamo a farla Tutto qui Perché mi sono enderperlato ovunque Merda ragazzi Sono spawnati i silverfish Tra l'altro In questo momento E si stanno trasformando i blocchi In silverfish Che cosa brutta Non ho dei blocchi di pietra Quindi tappiamo con la terra E vabbè Ed eccoci nel land Quindi Là abbiamo la nostra base Che abbiamo costruito recentemente Ma dove lo faremo Il pianeta terra Direte sopra la base No Esattamente no Lo faremo Sopra Il portale di ritorno Che segna un po' Il centro E quindi il fulcro Del land stesso E quindi mi piace l'idea Di farlo qua sopra Ci costruiamo un ponte Per poter salire Qui sopra Se no Torniamo a casa Appena mettiamo piede In quel portale E iniziamo a salire Verso l'alto Perché andremo a impostare Il nostro pianeta terra Appunto Sulla sommità del land Non andremo troppo in alto Perché voglio che si veda bene Però dovremo andare Insomma All'altezza giusta Quindi adesso Vediamo un po' Di quanto salire Ok sono salito Di un'ottantina Di blocchi Penso che Si potrebbe fare Anche qui Verrebbe qualcosa Di molto grande Però non voglio Ficcarla troppo in alto Che Che si vede poco E siamo Ad un'altezza Di 154 Sì direi che è più che sufficiente Quindi ragazzi Iniziamo a costruire qui La nostra terra Come la faremo La terra ovviamente È fatta Della maggior parte Di acqua E per simulare l'acqua Ho preso l'argilla blu scura Non è proprio il colore dell'acqua Però comunque Se lo vediamo Dallo spazio Che magari È tutto buio Non lo so Però la lana Era troppo accesa Quindi se devo scegliere Tra vari blocchi Preferivo questa argilla qui Mentre utilizzeremo L'argilla Verde chiara Per fare Le terre immerse Appunto Sul pianeta terra Però inizieremo Da una base Di questa argilla Perché Sarà ovviamente Il blocco più presente Dopodiché penseremo Anche al resto Come fare Il pianeta Lo sappiamo In memoria Ragazzi Ne abbiamo fatti 8000 Quindi inizio facendo Una base 3x3 Poi mi allargo In questo modo Lasciando gli angoli liberi Poi mi appoggio Un attimo qui E farò un contorno Totale A quello che abbiamo Già fatto Quindi così Solo che poi Dovrò aggiungere 3 blocchi In ogni lato Quindi 1, 2, 3 E per il resto Tracciare tutto il contorno Una volta fatto ciò Prendiamo Altra terra E facciamo Un altro contorno Solo che questa volta Non avremo Gli angoli Quindi qua Non mettiamo Un altro blocco subito Ma facciamo L'angolo Che rimane Connesso solamente Diciamo tramite lo spigolo E quindi dovrò utilizzare Un sacco di blocchi di terra Come appoggio Continuiamo così E diciamo che In questo modo Possiamo completare La sfera Una volta che poi Ovviamente Faremo Tutte Le 6 facciate Nello stesso modo Adesso ne ho fatta solo una Ma tanto il procedimento Già lo sapete Ora che abbiamo fatto Questo lato Comunque Voglio farvi vedere La mia idea Di pianeta Quale sarà Quindi non voglio Riprodurre esattamente Il pianeta terra Quindi con le forme Dei continenti Sarebbe troppo Approssimativo E non verrebbe Un ottimo lavoro Quindi direi che Possiamo stare tranquilli E fare cose Un po' a random Allora intanto Sto per morire Meno male Che ho preso il portale Cazzo Sono crepavo Bravo Complimenti davvero Volevo praticamente Mettermi a fare La parte Delle terre Devo tornare fino là Lo so E sono tornato ragazzi Sto lentamente Rissalendo questo Totem di terra Che lo devo spaccare E risalire man mano E vabbè Comunque Già da qui Possiamo notare La prima facciata Del nostro pianeta E in effetti Non avevo pensato A questa cosa Vale a dire Il blu scuro Dell'argilla È molto simile Allo sfondo Dello stesso end Quindi dovremmo Essere molto bravi A mischiare Il colore blu Con le parti verdi Perché altrimenti Rischiamo di Avere un corpo Celeste Che non si vede Perché è Allo stesso colore Del cielo Devo stare molto attento Ok Ora che siamo arrivati qui Possiamo fare Quello che volevo fare Appunto Senza magari Rischiare la vita E cioè Iniziare a mettere Una sorta di Maculazione verde Qua sotto Come se fosse Un mini continente In questa facciata Della nostra terra Quindi iniziamo a mettere I blocchi verdi Dopodiché Possiamo Semplicemente Tornare su Con la terra Sbamme E chiudiamo Con un altro blocco verde Perfetto Quindi qua e là Metterò queste macchie Ora sarebbe un bene Cosa sto facendo Sarebbe un bene Fare prima Tutte le facciate Blu E poi pensare A come fare Le parti verdi Il problema Che mi rimane Meno di uno stack Di blocchi blu Quindi Non so neanche Se mi basteranno Sti materiali Onestamente Ragazzi Nel frattempo Ho ricreato La struttura Per appoggiare Le varie facce Che vi ricordo Distano esattamente 13 blocchi L'una Dall'altra Quindi una faccia Dall'opposta Dista 13 blocchi Se vogliamo Contare il blocco Di cui composta Invece Saranno 15 Ovviamente Non ho abbastanza Blocchi Questo l'abbiamo Già detto Quindi penso Che in realtà Non completerò Il satellite E bensì Farò Metà Sfera Proviamo a fare Metà sfera Quella che si vede Dal basso In realtà Non servirebbe Neanche fare La parte alta Perché Probabilmente Non si nota Neanche se Non lo completiamo In ogni caso Beh Se si nota Ovviamente Lo completo Ma mi sa Che per la puntata Non riesco A farlo tutto Niente raga Torno a casa Farmerò Altri Sono tornato Così diretto Di cattiveria Farmerò Altra Clay Indurita Nella mesa Ci metterò Davvero Tantissimo Tempo Magari Anche il caso Che ci vado Con le litra Già che ci sono E niente Ci vediamo Una volta Che avrò fatto Che bello L'andata Lo faremo In due secondi Se non fosse Che poi Per tornare Ci vuole Mezz'ora Yeee E dunque Sono tornato Nella sfera Ho portato Un sacco Di materiale Non l'ho Trasformato subito Perché voglio mettere Giù una crafting table E farlo man mano Non sono sicuro Di quanti blocchi Mi serviranno Iniziamo a farne Comunque Un bel po' Direi Tipo Uno stack Ma anche due Dovrebbero servire tutti E ora Non ci resta Che completare Questi Queste facciate Quindi cominciamo Dalla Sfera Dalla parte Della sfera inferiore Ed ecco fatto Metà della sfera L'ho fatta tutta blu In modo da Avere Diciamo Una base Su cui puoi costruire Adesso dobbiamo Prendere i nostri Pezzi verdi E iniziare a fare Il resto Per cui Non sarà facile Devo andare Praticamente A distruggere Quello che ho fatto Finora Senza cadere giù E magari senza Perdere i pezzi E pian piano Sviluppare Delle forme Che potrebbero Ricordare Le forme di un continente Quindi magari Lo estendiamo Da un lato Lo facciamo arrivare Fino a un angolo Comunque Formi Irregolari E Possibilmente Semirealistiche Tipo comunque Lì ho già sbagliato A ricostruire Il lato Mi sa Ecco Per cui Una forma Così Magari Aggiungiamo Qualche altro Blocco Da questa parte Se no rimane Troppo sbilanciata E queste forme Le andiamo a fare Un po' ovunque E un po' A casaccio Essenzialmente Sarà una cosa irregolare Non vuole per niente Essere Realistico Quindi non deve Ricordare la vera terra Perché se no È qualcosa di Troppo impreciso E lungo da fare Anche se vogliamo Non vogliamo fare Una riproduzione fedele Insomma Ve l'ho anche già detto Ok ragazzi Penso di aver fatto Un buon lavoro A mettere queste macchie verdi Adesso direi Di scendere Di vedere un po' Il risultato E se andrà tutto bene Andrò poi avanti A fare la seconda metà Anche se Si dovrebbe vedere In teoria solamente La prima Dal Diciamo Dal basso Però nel caso Comunque andrò anche a fare La seconda In modo dettagliato Quindi Tipiamoci giù Alziamo subito Lo sguardo E boom Quello è il nostro Pianeta Terra Allora Come Colori ci siamo Assolutamente Le macchie Per ora Non mi piacciono Nel senso Che dovrei Completare la sfera In effetti Perché un po' Si vede Che è tagliata E le macchie Le dovrei fare Molto ma molto Più grandi Secondo me Forse dovrei Anche illuminarla Non saprei bene Come fare Magari con delle torce Semplicemente Messe un po' In giro Altrimenti Dovrei mettere Dei blocchi di vetro Colorato E delle fonti Di luce dietro Questa cosa Un po' complessa Perché rimane Tutto molto buio Comunque ragazzi Se avete dei consigli Da darmi Fatemi risapere Nei commenti Io renderò Le macchie Un po' più grandi Completerò la sfera E nel prossimo episodio Mi farò trovare Con la struttura Già finita Ovviamente In modo da Magari avere anche Questa pausa Tra un episodio E l'altro Per implementare I vostri consigli Quindi vediamo Un po' Che cosa Ne tiriamo fuori Detto ciò Se il video vi è piaciuto Lasciate mi piace Noi ci vediamo Presto Con altre puntate Altri video Un saluto Da Eren Blaze Ciao a tutti